Ciao e bentornati sul canale! E così hai fatto diventare sordi i nostri amici! Eh? Sì, sono felicissima! Benissimo, ciao a tutti! Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di G come giocare! Insieme, in coro abbiamo detto! E che cosa vi faremo vedere? Tutto quello che abbiamo portato a casa. Siamo stati lì una mattinata, pomeriggio, siamo lì il venerdì. Avete visto il video della sfilata, di alcuni stand, velocemente, che abbiamo fatto. L'anno prossimo prometto che li faremo singolarmente. Ogni singolo stand faremo un video. Perché era la prima volta, eravamo un pochettino frastornati da tante cose da fare e da vedere. Il bello della fiera è anche questo, quello di portarsi a casa delle cose. Quindi, com'è andata prima cosa la fiera? Ti è piaciuta? Sì! Posso raccontarvi una cosa bellissima? Intanto faccio vedere, questa è la mappa. Prima abbiamo fatto il balletto di Ladybug e alla fine c'era un piccolo regalino. Esatto, allora praticamente siamo andati lì. Prima abbiamo fatto la fotografia, che non abbiamo qui. Sì! E poi, con l'ambientazione, la stanza di Marinette. Marinette, poi... Potevi scegliere. Potevi scegliere. E a mezzosorno si è detto, tornate che facciamo la coreografia. E abbiamo fatto la coreografia e in omaggio le hanno regalato, dopo aver fatto la coreografia con la musica... Potevi trovare tutti questi, pure Ladybug, tutti, eh? Tutti questi. E io che ho trovato? Lei. E vabbè, è carino. Fai vedere come funziona? Sì, è carino, eh? Guarda, tu schiacci qua... E si illumina. Però ha anche questa modalità e questa. Ah, puoi variare la modalità? Per spegnerlo. Perfetto. E c'era anche la casa di Babbo Natale, dove poter scrivere le letterine. C'erano un sacco di stand, la Sbabam, Barbie, la Carrera, Kikko, Dragon Ball. C'era anche la Folletto, quella che vendeva le spiapolveri, non so cosa c'entrarsi. Va bene. Probabilmente per pulire le stanze dei bambini, giochi preziosi. Insomma, la Slade, tantissime, tantissimi stand. Questa appunto era la mappa per orientarsi all'interno della fiera. Poi, vediamo cos'altro abbiamo portato a casa. Passando a fianco allo stand della Frisbee, canale... Ci hanno regalato dei lacci da scarpe, che poi uno può utilizzare anche in un'altra maniera, del canale 44 Frisbee. Eccoli qua. Hanno tentato di regalarceli tre volte, però giustamente si prendono una volta sola i regali, perché se no è un'ingiustizia nei confronti degli altri. Sì. A te cos'è che era piaciuto di più della fiera? La parte dove c'erano le Barbie. Com'era lo stand Barbie? Com'era organizzato? C'era una specie di tavolone, tutto rotondo, con un sacco di Barbie, delle cose, e c'era pure la scatola dove potevi fare la foto carina Barbie. Ah, è vero, abbiamo fatto la foto dentro la scatola come una Barbie scatolata. Nello stesso stand, essendo Mattel, c'erano anche le Enchantimals, mi pare. Sì, le Enchantimals, poi c'erano le Polly Pocket, che nello stand dove giocavamo, c'era proprio, eravamo dentro una Polly Pocket. Sì, esatto, la postazione era fatta come una scatola Polly Pocket, quindi i bambini che erano dentro a giocare erano come delle Polly vere. e ci hanno regalato questo. E poi c'era anche degli specie di animaletti, degli animaletti, e poi, credo basta. E ci hanno regalato questo, con un giornale di Barbie. Lo sai che Ken sembra un ragazzino, è più piccolo di Barbie. È vero, qui sono tutti ragazzini. Dentro, in questo numero speciale, c'era una Barbie bellissima. Sono anche gli adesivi. Guarda, guardate che bella. Bellissima. E quindi, anche un giornalino maggio, che appunto, c'erano anche, c'erano questo, c'era questo. Qui abbiamo anche i biglietti, Fira Milano City. Vedete? Si paga, però, se si prenota via internet, si hanno degli sconti, e si riesce a portare a casa sempre qualcosa. Vedete? Eccolo lì che Polly Pocket. Abbiamo visto anche in anteprima le nuove che usciranno. Sì. Ce n'era una sullo spazio, una forma di libro. Ce n'era una forma di patatine dove c'è il primo maschio Polly Pocket. Poi, mamma mia. Abbiamo preso questa, ci hanno regalato questa spilla al Club 57 dopo aver fatto una foto vestiti come negli anni 50, perché dovrebbe essere un telefilm legato al, non lo so, spettacolo, musico, non lo conosco, ammetto, e ci hanno regalato questo e abbiamo fatto anche una foto lei si è vestita tutta anni 50. poi alla Sbabam ci hanno regalato una borsa, ma perché abbiamo preso le fatine che avete visto le yuyu fairy e ci ha regalato anche questo. Questo, credo sia cioccolato bianco, questo è il mio. Questo. Questo è quello. questo è il tuo. Questo è mio, anche questo. No, questo non è tuo. il terzo di chi è? Questo. E questo è pure il mio. No, questo è il mio. Alla Sbabam sono stati gentilissimi. Ripeto, secondo me c'era anche il signor Sbabam, non lo so, uno, perché c'era uno in giacca e cravatta che aiutava, e c'era tutto lo stand con tutti i collezionabili fuori da provare, gli slime, le varie cose, è carino. Ah, mi sono dimenticato nel reparto Barbie, mi sono dimenticata di dirvi che c'era pure quello dei dinosauri slime e c'erano ste bambine che hanno messo lo slime nella macchinetta dove usciva il finto caffè che erano delle rotelline. e quindi l'hanno intasato. Sì, e non riuscivo più a giocarci io. Vabbè, perché si può giocare tanto, infatti il problema, perché alle LOL non ti sei fermata due volte, no? Sì, è bellissimo perché c'erano le OMG, i Glamper, poi le, le bambole della Pupsi, c'erano le Miracle Tunes, ma le bambole della Pupsi erano bellissime. C'erano anche delle cose di Anna e Elsa. Poi c'erano anche Anna e Elsa che sono bellissime. Ovviamente noi abbiamo seguito un attimino di più la parte femminile, c'erano anche le Tartos, c'erano anche Hot Wheels, c'erano tante cose. C'era una macchina vera della Hot Wheels, grandissima. Allora, poi potete avere anche degli sconti, questo è uno sconto che si poteva avere solamente andando a G. Come Giocare per prendere gli SOS Pets. Quindi, poi abbiamo preso un bel catalogo della Sledge. E com'era lo stand della Sledge? Bellissimo, perché c'erano i cavalli grandi della Sledge. Ah, è vero, c'era un cavallo fatto in plastica come se fosse un modellino ma in grandezza naturale. E poi c'era anche uno con i capelli veri e poi potevi giocare, io mi sono messa lì a giocare a fare il recinto dei cavalli. Ma poi è pazzesco perché per terra c'erano migliaia di animali Sledge. C'erano pure gli squali. Sì, ma infatti gli squali, squelli. Va bene, scusa la battuta. C'erano tipo otto squali bianchi, tutti uguali, tutti, tutti, cosa? C'è? Tutti vicini, questo qui è il catalogo Sledge. Sì, non sono matto, tutti vicini e quindi o buche nere, ce ne erano 14 e quindi era impressionante vedere tutti questi giocattoli. Poi ci hanno dato un bel catalogo. Ah, i catalogi li riguardiamo uno alla volta in un video unico, se no questo video diventa troppo lungo. E quindi abbiamo questo è il catalogo solo Mattel. Io qua mi sono segnata tutto quello che vorrei. E di là il tuo, questo qui, quella recensione. Sì, infatti ce ne sono due. Ma come mai sono uguali? Eh, da un lato... Vedi, vi dicevo, questi sono dei mostriciattoli che c'erano nel reparto Barbie. Poi, questa era una pubblicità semplicemente che da febbraio... Gallina puntolina frisbee. Su frisbee da febbraio ce l'hanno dato. Uno sconto da Kikko, anche questo se qualcuno lo vuole utilizzare. Scopri il tuo negozio Kikko su tutto l'assortimento. Magari mi compro qualche vestito perché per la mia bambola. Questo è un catalogo della... Il catalogo è un librettino gioco della Hot Wheels molto carino. Molto carino e il catalogo 2019 della Playmobil. Io avrei... Ecco qui. Io speravo ci fosse quello del 2020 ma evidentemente non è stato ancora preparato. Poi stiamo andando verso il Natale 2019 e quindi più importante. Bello! dopo lo guardiamo facciamo una recensione apposta e poi abbiamo vinto anche questo perché c'era perché io c'era una sorta di Pacinco dovevi mettere lanciare sto specie di rotondino e io lanciandolo a caso ho beccato Pikachu quello più raro. Esatto esatto e quindi hai vinto questo e anche una bustina di cards dei Pokémon che abbiamo già regalato perché non le collezioniamo. Non siate egoisti regalate le cose ai vostri amici. Io volevo aprire questa. Questa la apriamo allora dai facciamo in questa recensione anche se è un po' lunghina facciamo questa apertura. Quindi altre cose che ti sono piaciute abbiamo giocato alla Sylvain Family siamo andati nello stand. Sì la Sylvain Family io volevo restarci un sacco. E poi abbiamo visto che cosa ancora? Ci ho fatta. Alla Sbaban l'abbiamo detto Ready Bug Barbie Mattel beh abbiamo fatto le fatine abbiamo mangiato gli hot dog abbiamo mangiato le fatine quelle delle fatine ah c'erano le fatine che truccavano e vendevano delle ali delle bacchette e altre una bella matita un'altra bella matita e ovviamente abbiamo no lo faccio io vedere va bene questo è bellissimo ed è un temperino vedi vedete con un micro serbatoio per una temperata solo con questo ve lo consiglio perché potete fare gli scherzi alla maestra cioè lo usate in classe fate finta di mettervi il rossetto e gli altri diranno maestra ha portato il rossetto e voi dite no è una gomma e gli fate vedere che cancellate bellissimo quindi se non hai nient'altro da aggiungere su oggi come giocare come è stato la fine ci torniamo? sì è bellissimo perché soprattutto anche perché ci sono un sacco di giochi e puoi giocarci perché se tipo tu giochi con una cosa poi ti piace e magari poi la comi ah sì certo e poi ti toglie la soddisfazione di giocare con tanti giochi che non avrai mai perché tutte quelle omg è praticamente impossibile averle no? sono veramente tante oppure tutti quegli animali slage sono infiniti sì quindi molto positivo consigliamo di andarci anche l'anno prossimo il venerdì non c'è molta gente sabato e domenica mi dicono se sia più gente io consiglio io ho detto al papà che vorrei che ci andiamo tutti gli anni tutti gli anni e ci andremo tutti gli anni sicuramente e anche da altre parti quindi vi salutiamo iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao